Per ribadire il no al bullismo, il Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con la Garante regionale dell'infanzia e il Corecom, ha organizzato un fitto cartellone di iniziative che, partite il 5 febbraio scorso, giornata nazionale contro il bullismo, continueranno fino al 15. Dire no al bullismo fuori e dentro le scuole è sensibilizzare non solo i ragazzi ma l'intera comunità. Per questo Palazzo Lascaris ha ospitato una lunga giornata di incontri, musica e confronto con gli studenti ma anche con i genitori. Oltre 100 studenti e studentesse hanno preso parte a quattro diversi workshop, con i percussionisti africani Maghette e Babel, per facilitare l'aggregazione e integrazione tra ragazzi attraverso il ritmo usando oggetti di tutti i giorni. Un estratto dello spettacolo Colpevoli Bullismo in scena Vittime e Carnefici, ideato e diretto da Giampiero Ingrassia, ha mostrato loro le diverse tipologie di bulli che sono anche al centro dell'indagine del progetto Bulli e Poupe, per riconoscere e contrastare i sintomi del bullismo presentato dalla compagnia 3001. I dieci comandamenti social, infine, è un decalogo ironico stilato da Annalisa Del Rico, autrice di Figli Virtuali, un'analisi sul mondo digitale. A genitori e insegnanti era invece rivolto bullismo e cyberbullismo, non insegnano ma segnano famiglie, associazioni e istituzioni al fianco dei giovani. Bisogna fare educazione e prevenzione coinvolgendo sempre di più i genitori, afferma Paolo Picchio, il papà di Carolina, dalla cui tragica vicenda ha preso avvio l'iter che ha portato alla legge contro il cyberbullismo. Non sentono più il senso di colpa, quando fanno certe cose per loro è normale. Sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole della rete è l'impegno quotidiano della Polizia Postale, come ha spiegato la dottoressa Fabiola Silvestri, dirigente del compartimento Polizia Postale e Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta. A genitori e insegnanti era rivolto questo convegno e a loro si rivolge Anna Maria Baldelli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Dobbiamo aiutare i ragazzi ad essere capaci di riconoscere le loro emozioni e le emozioni degli altri.